Un pellegrinaggio con un forte connotato ecumenico e interreligioso. Sarà questo il sedicesimo viaggio apostolico di Papa Francesco tra il 30 settembre e il 2 ottobre in Georgia e Azerbaijan sul tema Pax Vobis per la prima parte dell'appuntamento e siamo tutti fratelli per la seconda. In un fitto calendario di incontri e cerimonie il pontefice pronuncerà dieci discorsi lanciando ancora una volta un messaggio di pace tra i popoli. Con noi il cardinale Pietro Parolin segretario di Stato Vaticano. Papa va naturalmente sempre, l'abbiamo visto anche in Armenia come un amico, soprattutto per incontrare le persone, incontrare le realità così differenziate per incontrare i popoli, per favorire questa cultura dell'incontro che gli sta tanto a cuore ed ovviamente a questa cultura dell'incontro è strettamente vincolato tutto il tema della pace. Il Papa certamente porrà al centro anche del suo insegnamento e della sua presenza proprio questo favorire in ogni modo la pace, la riconciliazione e l'intesa e poi come sempre l'incontro con la Chiesa Cattolica per incoraggiarla ad andare avanti nella sua vita e nella sua missione. Qual è la situazione della Chiesa oggi in Georgia e quali sono le sfide per la società? Sappiamo che la Georgia è stato uno dei primi paesi che ha accettato il cristianesimo in forma ufficiale attraverso l'opera evangelizzatrice di una santa, di una donna, ecco sottolineiamo anche questo, è stata una donna, Santa Nino, anche se ha un cognome, ha un nome diciamo un po' strano, no? Sant'Anino nel quarto secolo e ancora oggi evidentemente la caratteristica, l'impronta della società georgiana è cristiana, ecco quindi il Papa va anche per incontrare questa Chiesa, la Chiesa Ortodossa giorgiana e il suo cattolico spatriarca Ilia II e per cercare di stringere, di favorire, di promuovere reciproci legami di amicizia, vincoli di amicizia. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica è certamente una realtà minoritaria, una realtà piuttosto piccola, limitata, ma che ha una presenza significativa, è presente in tutte le regioni del paese attraverso i suoi tre riti, il rito latino, l'armeno e poi l'assiro caldeo. E diciamo realizza, realizza oltre che dal punto di vista pastorale molte altre opere, soprattutto nei campi della carità e dell'assistenza e nel campo anche educativo. Ecco vorrei sottolineare anche l'importanza del fatto che la Chiesa Cattolica, come tutte le minoranze religiose, gode di uno statuto giuridico, ma è preciso e questo evidentemente aiuta il suo inserimento in quella realtà e adatta anche lo svolgimento della sua attività e della sua missione. Sfide? Ma io vorrei sottolinearne una, ecco, ed è un po' quella, il tema dei rifugiati. I rifugiati, sia rifugiati diciamo che vengono dai paesi medio orientali, che si trovano nella situazione di conflitto, vista anche la vicinanza geografica di questo paese, sia anche gli sfollati interni che hanno dovuto abbandonare il loro luogo d'origine a causa dei conflitti che si sono prodotti negli anni recenti. Ed allora, ecco, una delle sfide è proprio come far fronte a questa emergenza e a questa presenza di gente che ha dovuto lasciare la sua casa. In questo dittico cosa possiamo dire dell'Azerbaijan, qual è la situazione della Chiesa, ma anche quali sono le realtà, le situazioni a cui la Santa Sede rivolge la propria attenzione? L'Azerbaijan si sforza di essere un paese che promuove la tolleranza fra le varie religioni e le varie culture ecco che sono presenti nel paese. E direi che questo è di fondamentale importanza nel nostro mondo, ecco, veramente favorire l'incontro, quello di cui si parlava poco fa in riferimento al Papa. Anche qui la Chiesa Cattolica, diciamo, le sue attività godono di un riconoscimento giuridico che permette appunto di lavorare, che permette di assistere adeguatamente i membri cattolici, i cattolici che vivono in questo paese. E nello stesso tempo anche si sforza di impegnarsi nel dialogo con l'Islam e con le altre, diciamo, comunità che sono presenti nel paese. Queste sono terre di confine tra Oriente e Occidente, dove il dialogo è un'urgenza. Dunque il Pontefice si farà una volta in più con le sue parole, messaggero di pace. Le terre di confine sono terre di una particolare ricchezza, di una particolare vivacità, ma nello stesso tempo anche sono terre che soffrono di tante tensioni, che soffrono di tanti conflitti, che soffrono di lacerazioni. E allora la parola del Papa potrà essere davvero una parola che invita a fare quello che lui dice spesso, delle differenze, non motivo di conflitto, ma motivo di arricchimento reciproco. Ecco, la grande sfida dei nostri giorni. Certamente sarà una sfida che il Papa rilancerà anche in questa terra.